Anche se ancora in fase di attività sperimentale, dal Mose quest'autunno a San Marco si aspettavano parecchio di più. La notizia è che invece fino al 31 dicembre di quest'anno le paratoie si alzeranno solo con maree superiori ai 130 centimetri non è stata certo salutata con entusiasmo da chi vive e lavora in una delle zone più basse di Venezia, dove ci si inizia ad allagare già con 82 centimetri, quasi mezzo metro prima che si azioni il Mose. Noi speriamo che il comune che non mi sembra si sia ancora espresso sia ovviamente dalla parte dei cittadini e delle attività produttive, il tessuto sociale e produttivo di una città che sappiamo essere in difficoltà. Ripiombare nell'incubo delle acque alte e dei costi che queste comportano preoccupa anche perché ricordiamocelo la comunicazione all'estero ma anche verso gli italiani di che cos'è l'acqua alta sappiamo non essere sempre stata motivata. Da circa una settimana la Basilica di San Marco è circondata dai cantieri per la posa di paratoie di vetro che la dovranno difendere dall'acqua alta. Lavori che però non possono procedere proprio nelle giornate di acqua alta che tra poco potrebbero essere davvero parecchie. Dall'acqua grande del novembre 2019 ai lockdown del 2020 l'area marciana ha subito una crisi commerciale dalla quale fatica ancora a risollevarsi. Purtroppo le chiusure sono continuate abbiamo per fortuna anche quel che segnalano positivo abbiamo in cantiere quattro negozi che stanno restaurando e che dovrebbero aprire molto velocemente quindi sì qualche timido segnale. Certo è che continuare con l'incertezza dal punto di vista imprenditoriale di un'acqua alta che potrà arrivare ed essere particolarmente invasiva non aiuta l'imprenditore. Grazie 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 Grazie